L'incontro di questa sera è un incontro un po' speciale, nel senso che quando abbiamo pensato questo percorso sul tema perdono, violenza, vittime eccetera, abbiamo ritenuto che fosse importante soffermarsi a riflettere, a guardare quelle provocazioni che ci vengono da uno dei più grandi vescovi della nostra storia italiana, insomma uno che probabilmente in molti avremmo voluto anche, avremmo desiderato anche che diventasse Papa, insomma in qualche momento che è Carlo Maria Martini, per parlarne questa sera, per parlare non tanto di lui quanto di quei temi legati alla violenza, insomma sui quali lui si interrogò a lungo, per parlarne questa sera abbiamo con noi due persone che hanno accettato di collegarsi tutte e due dalla diocesi di Milano e quindi che ci hanno, insomma in questo modo ci hanno anche fatto, ci fanno questa sera insomma il regalo di essere con noi. La prima è Silvia Meroni che è docente nei licei, è un'ausiliaria diocesana e le due cose importanti sono il fatto che prima di fare questo lavoro su Martini aveva fatto una tesi su Bonhoeffer che è la tesi per la quale peraltro, attraverso la quale io e Silvia ci siamo conosciuti molti anni fa, per il suo secondo lavoro presso l'Istituto di Scienze Religiose di Milano ha fatto una lunga tesi, una lunghissima tesi proprio su quella che è stata l'esperienza del Cardinal Martini durante gli anni di piombo e di fronte alle provocazioni che gli venivano da questo grande tema che è il tema della violenza con tutto quello che da questo deriva e da questo suo lavoro è uscito questo libro intitolato Carlo Maria Martini e gli anni di piombo, le fatiche di un vescovo e le voci dei testimoni pubblicato da Ancora che è un libro uscito nell'anniversario dell'ingresso di Martini a Milano, un libro uscito in un momento un po' infame perché è uscito durante il lockdown e però un libro che ha fatto, credo abbia posto una pietra, un punto di non ritorno, costituisca un punto di non ritorno nella riflessione che da Martini noi abbiamo ereditato e da questo punto di vista credo di poter dire che con questo testo Silvia Meroni si colloca fra le maggiori esperte, conoscitrici del pensiero di Martini oggi in Italia. Con lei abbiamo oggi Don Francesco Scanziani che è stato relatore della tesi di Silvia Meroni e che è un sacerdote della Diocesi di Milano che insegna teologia sistematica, antropologia teologica ed escatologia sia nel seminario diocesano che nella facoltà di Milano e fra l'altro, questo credo sia una cosa importante, è impegnato in quelle iniziative che nella Diocesi di Milano fanno parte della scuola di teologia per laici che un po' credo si sovrapponga magari con qualche differenza però insomma grosso modo si sovrappone alla scuola diocesana di formazione teologica. L'incontro di questa sera sarà dunque un incontro a due voci, saranno due le voci che sentiremo e credo che la cosa più interessante, più bella insomma anche di questa sera è che non ci saranno solo le voci di Silvia Meroni e di Don Francesco Scanziani, ma ci sarà anche la voce, sentiremo anche la voce del Cardinal Martini di cui ci proporranno qualche piccolo stralcio. Io mi fermo qui, credo che per insomma come introduzione sia più che sufficiente insomma siano più che sufficiente queste piccole cose che non rendono sicuramente ragione dello spessore del lavoro insomma che sta alle spalle della presentazione di questa sera, quindi mi fermo qui e lascio subito la parola credo a Silvia. Sì, buonasera. Perdono un cammino lungo una vita, sono titolate così queste serate, oggi raccontiamo appunto Carlo Maria Martini che è stato vescovo di Milano dal 1980 al 2002 e scegliamo però di soffermarci su un aspetto poco noto, ci sarebbe da chiedersi come mai, cioè le scelte che lui appunto ha vissuto negli anni di piombo e in particolare la sua vicinanza alle vittime della violenza brutale di quel tempo per far risaltare, ci auguriamo, che il perdono è correlato alla ricerca della verità, al bisogno di giustizia, all'esigenza della cura e alla permanenza del male. Cosa intendiamo quando parliamo degli anni di piombo? Si tratta per Martini di un tempo ampio che abbraccia tutti gli anni del suo ministero episcopale e che sono contrassegnati dalla violenza, dalle morti, dal terrore. Sin dal 1969 con la strage di Piazza Fontana a Milano si assiste a una progressiva polarizzazione del terrorismo. Da una parte lo stragismo di matrice neofascista che non senza complicità all'interno delle istituzioni continuerà a collocare ordigni nel paese. Basti ricordare, le vedete, la strage di Piazza della Loggia Brescia del 74 o il treno Italicus o ancora proprio durante il mandato di Martini che non mancherà di far sentire la sua voce, la strage alla stazione di Bologna del 1980 il 2 agosto e la strage di Natale del 1984. E dall'altra, dall'altra parte si sviluppa una galassia di formazioni soprattutto di sinistra che utilizzava un'altra strategia scegliendo con cura i suoi obiettivi proprio per la funzione che essi svolgevano. Di queste in modo particolare le Brigate Rosse prima linea a sinistra e Inar a destra. Martini era a Roma decano della Facoltà di Sacra Scrittura quando si compie il più rilevante crimine politico della storia dell'Italia Repubblicana, cioè 55 giorni drammatici che vanno dalla carneficina di Via Fani a Roma il 16 marzo del 78 fino all'omicidio di Aldo Moro il 9 maggio successivo. E il terrorismo continua per tutti gli anni 80 con una lunga coda di cui ricorderete gli omicidi di Massimo D'Antona nel 1999 e Marco Biaggi nel 2002, cioè fino al compimento del mandato milanese di Martini. Solo nel 79 si registrano in Italia 2200 attentati, un numero impressionante al punto che il Ministero dell'Interno aveva addirittura calcolato la frequenza oraria degli attentati. Per Martini era un tempo di grandi responsabilità e certamente di una inaggirabile sfida, cioè come far fronte a questa violenza, come convertire i cuori, fermare la mano dei terroristi. E Martini, dopo la nomina come rettore della Pontificia Università Gregoriana, viene ordinato vescovo il 6 gennaio 1980 e poi chiamato a Milano. Martini entra a Milano con il solo Vangelo e non si sapeva ancora quanto la forza della parola di Dio sarebbe stata la sua vera forza. Guardiamo. E parliamo prima di tutto di questa città della quale ora io mi sento membro vivo, di questa città, cuore di questa chiesa ambrosiana e di questa diocesi. E ne parlo non con parole mie, ma vorrei citare da una delle migliaia di lettere ricevute in questi giorni e ricevute da tante persone che di fatto per la massima parte non conoscevo. E vorrei prendere qui l'occasione anche per ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno scritto, mi hanno telegrafato, sono stato sommerso da questi scritti, di questi telegrammi e mi scuso se non ho ancora risposto a tutti. Vorrei farlo a tutti personalmente, almeno con una riga, ma ci vorrà un po' di tempo. Ad ogni modo, certamente vorrei fin da ora ringraziare di cuore tutti quelli che in qualche maniera mi hanno detto una parola di incoraggiamento e di preghiera. Dunque una di queste lettere la citerò, è di una persona che non conosco e dice tra l'altro così, dice Milano è una città meravigliosa e terribile, tenera nel donarsi, crudele nell'imporre ritmi e sistemi di vita. Qui si spara quasi ogni giorno, ma si compiono anche grandi atti d'amore. Si bestemmia la vita, ma maggiormente si prega e si loda Dio. È una città viva, aperta, giovane, che ha bisogno di una mano forte e tenera allo stesso tempo e di un linguaggio nuovo, anche se in realtà vecchio di 2000 anni. Prima ancora di arrivare a Milano ricorderete il 6 gennaio 1980 a Palermo viene assassinato Pier Santi Mattarella. Due giorni dopo, con la stessa tattica adottata in Via Fani a Roma, i terroristi della Valteralasia uccidono il brigadiere Rocco Santoro, l'appuntato Antonio Cessari, la guardia Michele Tatulli. E in quell'occasione diffondono tanti centinaia di volantini che riportano il benvenuto al generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Robbe da matti se pensate che colpiscono dei poliziotti per dare un messaggio ai carabinieri. Martini tuttavia in quel contesto non si dimostra spaventato. Anzi, ancora da Roma invia un telegramma di cordoglio in cui esprime la sua intenzione di iniziare al più presto il suo ministero. Così scrive, Episodi come questi mi fanno desiderare di essere quanto prima a Milano fra la gente, per vivere con essa le situazioni e i rischi e per partecipare alle sue sofferenze. Cosa succede? Sulla scrivania romana di Martini in pochi giorni arriveranno, meno di un mese, duemila lettere, soprattutto di inviti e di richieste dalla Lombardia. Non è eccessivo affermare che il suo ministero inizia proprio con l'incontro diretto con la violenza del terrorismo. Due giorni dopo che entra ufficialmente a Milano viene ucciso a Roma Vittorio Bachelet, che il gesuita conosceva benissimo, aveva visto anche pochi giorni prima dell'omicidio, prima di arrivare a Milano. È impossibile dimenticare a questo proposito che il figlio Giovanni, dopo la preghiera per tutti quelli che continuano in prima fila la battaglia per la democrazia, con coraggio e con amore, dice così. Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri. Pur essendo parole che sono totalmente prive di retorica, si prestarono però rapidamente a divenire il pretesto per sollecitare ogni parente delle vittime a offrire il perdono ai carnefici. non è che l'inizio del 1980 che conterà il maggior numero di vittime per terrorismo e stragi. In quel momento un'immagine può dirsi simbolica ed emblematica dello stile di Martini, della sua presenza nel cuore degli anni di Piombo. Ed è la foto di Martini che nel corridoio dell'Università Statale di Milano si copre gli occhi con la mano di fronte al corpo a terra di Guido Galli, che aveva il codice a fianco ed era il giorno della festa del papà. Martini più volte ritornerà su quell'episodio che ricorda con precisione. Ascoltiamo le sue parole. Quando venne la notizia della morte del giudice Galli ero in riunione con i miei collaboratori e subito sentì l'impulso di alzarmi e andare a benedire la Salma. Era morto in un corridoio dell'Università Statale e di fatti arrivai là e vidi ancora il corpo steso a terra nel corridoio. non so bene cosa feci se mi inginocchiai, se feci un segno di croce. Ero veramente sconvolto da quanto avevo visto e che dovevo vedere poi altre volte, ma questa era la prima volta che avevo il contatto con questa forma di crudeltà. La cosa era estremamente dolorosa, non solo per le famiglie, per i dolori dei congiunti, per lo smarrimento della gente, ma anche perché veniva colpita ogni volta una categoria diversa. Una volta un giudice, una volta un giornalista, una volta un imprenditore, un direttore di ospedale, una volta un direttore di fabbrica, eccetera. Quindi nessuna categoria era al sicuro. Ciascuno poteva temere per sé in qualunque momento. Perciò fu veramente una situazione drammatica, nella quale però ammirà il coraggio della gente. La scia di un impulso. Più volte Martini, narrando quell'episodio, indica in questa la ragione che lo mosse a lasciare l'arcivescovado per andare presso la vittima. E ritengo che questa sia un'immagine emblematica del suo stile perché inaugura l'atteggiamento che scelse di portare avanti. La decisione di stare accanto alle vittime, senza le prudenze o i calcoli di chi, anche nell'entourage curiale, voleva trattenerlo. Forse per lasciare ad altri, forse di assumersi le responsabilità, o forse per timore delle possibili conseguenze. Mi sembra che ha colto bene il senso di questa scelta di Martini, l'amico Alberto Conci, che rilegge in parallelo quegli inizi del ministero di Martini con gli inizi del ministero di Romero. Entrambi segnati dal sangue di vittime innocenti. Così scrive. Guardando oggi la fotografia di Martini davanti al corpo insanguinato di un uomo buono, tornano alla mente le parole che scrisse un altro gesuita, John Sobrino, ripensando al volto di Oscar Romero davanti ai cadaveri di padre Rutilio Grande, Manuel Solorsano e Nelson Rutilio, uccisi pochi giorni dopo il suo ingresso a San Salvador. Credo che davanti a quei cadaveri, a Monsignor Romero, caddero le bende dagli occhi. Io credo che la morte di Rutilio fu ciò che scosse in profondità Monsignor Romero e gli diede la forza per un nuovo modo di agire. In quei primi giorni si parlava della conversione di Monsignor Romero come del primo miracolo di Rutilio. Ecco furono due inizi, ma allo stesso tempo due momenti di svolta per entrambi questi grandi episcopati, perché fece passare entrambi questi uomini da una vita di studio al confronto con la morte violenta e le lacrime dei loro familiari. Ciò indirizzò il ministero di entrambi ponendoli accanto alle vittime, a immagine di quel pastore che predilige l'orfano e la vedova, come insegna la scrittura. Per Martini fu una presa di posizione coraggiosa e controcorrente, che a nostro giudizio rimane provocante ancora oggi. Martini accanto alle vittime e la testimonianza di Bianca Galli. Martini con la sua vicinanza determina nei familiari delle vittime la possibilità di trovare in lui un testimone del dramma e un punto di riferimento. Bianca Berizzi, vedova di Guido Galli, è una delle vedove che ho potuto incontrare personalmente due anni prima che morisse e mi ha confidato il suo sconcerto. Dice, io ricordo che avevo rimosso la voce di Guido, la faccia, non riuscivo più a leggere, non sapevo dove sbaccare la testa, non riuscivo a giudicare se il mio modo di comportarmi era giusto o sbagliato. Chiesi allora un incontro con il cardinale Carlo Maria Martini che mi fu subito concesso. Il nostro colloquio durò a lungo, fu per me di grande conforto e soprattutto di aiuto a ritrovare un possibile equilibrio. La scelta di rivolgersi a Martini non è casuale né priva di significati, lo spiega lei stessa quando dice, mi sono rivolta a lui perché ha vissuto in prima persona la tragedia. Ho poi continuato a mandargli i biglietti in occasione di alcune ricorrenze familiari a cui lui rispondeva. Non aveva un temperamento affettuoso, ma diceva le cose nel modo giusto. È proprio a proposito del perdono che la moglie di Galli si rivolge a Martini per un confronto. Non è tanto per la sua autorevolezza, che ancora non aveva, ma per avere vissuto in prima persona il fatto. E dice così, l'ho avvicinato dopo quando ho iniziato ad avere le mie perplessità per via dell'accanimento giornalistico. Ti assalivano da tutte le parti, sia dai quotidiani cattolici che da parte di altri, in modo particolare intorno al grosso dibattito sul tema del perdono. Avevo un risentimento non verso Dio, ma verso gli altri. Ho chiesto consiglio a lui proprio sul conflitto che vivevo a partire dalla mia formazione cattolica. Da una parte provavo profondo dispiacere per non riuscire ad appoggiare chi chiedeva perdono. Dall'altra però nemmeno mi sentivo all'altezza di dire cose positive di chi ci ha colpiti. Questa vicinanza di Martini suona particolarmente sentita in quegli anni, perché i familiari delle vittime, a loro volta vittime della violenza, vivevano un paradossale abbandono, duplice oserei dire, sia a livello statale sia a livello ecclesiale. Anzitutto a livello statale. Basti ricordare le parole di Giovanni Moro, il figlio dello statista, che così stigmatizzava la prima serie di leggi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è stata promulgata nel 2004. Ciò significa che è arrivata in molti casi a trent'anni di distanza dai fatti, e quanti ne avrebbero dovuto usufruire, spesso erano già morti. O ancora si dovette attendere il 2007, affinché venisse istituito il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di trasmatrice, per volontà di Giorgio Napolitano, che l'ha fissato il 9 maggio, giorno del ritrovamento dell'onorevole Moro. E si potrebbero citare altri dati per indicare segnali silenziosi che mostrano un colpevole ritardo e la disattenzione non solo dello Stato, ma della stessa società italiana, che in tanti anni forse si è illusa che lo scorrere del tempo bastasse a curare le ferite. Per tanto tempo è stato attribuito alle vittime, ai familiari delle vittime, un pesante pregiudizio, perché di loro si diceva che sono rancorosi. Cosa è successo? Che all'opposto si è registrato un paradosso, per cui spesso proprio i protagonisti armati dell'epoca si sono trasformati in testimoni, accreditandosi anche a interpreti di quegli eventi. E così si è assistito a un tentativo autoassolutorio di riabilitarsi, facendosi passare da carnefici a pentiti, da terroristi addirittura a vittime di un contesto storico. C'è un racconto di Vanna Bertelè, vedova del direttore del Policlinico di Milano, Luigi Marangoni, assassinato anche lui per il suo coraggio di denuncia per tutti quegli atti che avvenivano di sabotaggio all'interno dell'ospedale. e lei per esempio cita l'uscita di un film su Sergio Seggio sponsorizzato dal Comune di Milano, che rischiava di trasformare il terrorista in una figura esemplare, piuttosto che non di presentarlo con i tratti dell'eroe. Non si deve dimenticare che non si trattava di criminalità comune, ma di violenza basata su sistemi ideologici farneticanti e nichilisti, di un terrorismo che aveva sullo Stato un fine eversivo, che calpestava le istituzioni e con le istituzioni la vita umana. E la Chiesa che cosa fece? Ecco qui a nostro giudizio ci fu il secondo abbandono. È impossibile dimenticare che la vicenda di Aldo Moro, ad esempio, palesò una radicale spaccatura nella Chiesa italiana. Basti pensare che da un lato vescovi come Luigi Bettazzi, Alberto Ablondi, Clemente Riva, ipotizzarono di proporsi alle BR per uno scambio di prigionieri pur di liberare Moro. Mentre dall'altra parte il sostituto di Stato Vaticano disse Moro se l'è voluta con la sua apertura al comunismo, se anche non dovesse tornare vivo non è affar nostro. E il cardinal Siri, vescovo di Genova, il giorno del sequestro si lasciò sfuggire davanti a un giornalista una spregevole espressione. Ha avuto quel che si meritava. Forse si capisce ancora di più il dramma vissuto dal Papa amico Paolo VI. Quanto alle vittime il fatto di interpellarle direttamente ha fatto raccogliere una verità scomoda perché hanno riconosciuto nella prassi ecclesiale più attenzione al peccatore pentito che non al male umano. E ci sono tante figure, Don Luigi Melesi ma anche padre Adolfo Bachelet per richiamare nomi noti, che hanno dedicato la vita fra i terroristi nelle carceri. Badate bene come è lodevole che sia. Se non fosse però che non ci sono figure nella Chiesa che si siano mai dedicate alle vittime. In un contesto così anche l'operato di Carlo Maria Martini non fu esente da equivoci, incomprensioni, addirittura strumentalizzazioni. I giornali e l'opinione pubblica infatti davano un'ampia risonanza alla costante attenzione che l'arcivescovo dava al carcere, ai suoi problemi e ancor più agli sforzi di dialogo con gli stessi terroristi. Evidentemente una simile attenzione non poteva non generare stupore. Di sicuro alcune iniziative che Martini ha intrapreso per andare incontro alle richieste dei brigatisti, che aveva ritenuto sincere. Furono però motivo di disagio e disappunto esplicito da parte di alcune vittime. Vi ricordo solo alcuni esempi, forse anche noti. Il 12 novembre dell'81 consegna un Vangelo con dedica a Ciro Paparo dopo le sue proteste per la condizione dei detenuti nelle carceri. Era appiantonato al policlinico e Martini fa appunto visita. Poi nel 1984, la notizia non si sa come esce dal carcere, Martini battezza personalmente Nicola e Fiorenza, i gemelli nati praticamente tra le sbarre, nati da una coppia di terroristi, da Giulia Borrelli, da Chicco Galmozzi, proprio durante il processo. E poi che cosa succede? Benedice in carcere le nozze di due militanti detenuti, Silveria Russo e Bruno Larunga. E poi ancora, uscito dal carcere, consegna in occasione delle nozze un Vangelo con dedica che sembrava essere, pareva essere una benedizione al killer di Walter Tobagi. Insomma, sono episodi molto forti. Aggiungo un altro che forse è ancora più noto, quello della resa delle armi. È il 13 giugno del 1984. Alla Curia di Milano vengono consegnate alcune borse che oggi noi chiameremmo invece non tanto una resa ma una presa delle armi, proprio per riequilibrare il suo senso e la portata di quell'evento. È un fatto però, questo accaduto, che oggi possiamo spiegare proprio grazie ai documenti che abbiamo raccolto dallo stesso Melesi e che è, paradossalmente, per farvi capire, armi sottratte una ad una, custodite e poi consegnate simbolicamente dal collaboratore Don Luigi, proprio alla Curia di Milano, proprio al Cardinale Martini. E il quotidiano cattolico commentava il fatto con questo titolo, il gesto di chi domanda perdono. Facendo chiaramente intendere le intenzioni dei terroristi. In questa maniera, pensateci, l'esposizione di Martini era inevitabile, perché la risonanza pubblica della sua persona ormai e di ogni suo movimento era vasta. Però occorre anche tenere conto che tutti questi episodi facilmente potevano essere, come è accaduto, strumentalizzati. E l'esposizione all'equivoco è evidente nelle parole, a mio giudizio, graffianti ma acute, di Sergio Lenci, che in un articolo, in un'intervista all'Espresso, dal titolo Battezzate i figli ma non perdonate i padri, lui che ha vissuto tutta la vita con un proiettile conficcato nella nuca dopo uno scampato attentato, così scrive. Il Cardinale Martini avrebbe dovuto rispondere alla richiesta della Borelli di Galmozzi dicendosi contentissimo della loro intenzione di battezzare i bambini e indicando il cappellano a loro disposizione nel carcere. Questo avrebbe dovuto fare e non prestarsi a quello che rischia di diventare un gesto propagandistico. Cosa sentivano in quel frangente le vittime? Vi cito per esempio la voce di Anna Maria Messina, vedova di Lucarelli, che rimane sola con la figlia Michela di un anno e dice così, per anni nessuno si è occupato di noi, ci hanno lasciate sole, è passato molto tempo prima che qualcuno venisse a chiedere qualcosa. Io ero sola e in quella condizione ho cresciuto mia figlia, nessuno si ricordava, nessuno è venuto a cercarci, sono andata avanti con le mie forze perché dovevo occuparmi di lei. Infine, quando ormai Michela era cresciuta, sono arrivati alcuni riconoscimenti civili. Prima solo silenzio. A questo punto non possiamo trascurare di aggiungere gli effetti della prematura scarcerazione dei colpevoli, come il fatto che la sovraesposizione dei testimoni del ravvedimento ha contribuito all'emarginazione delle vittime. Una voce sintetica di questo scoramento, di questo senso di abbandono è Antonio Iosa, sopravvissuto alla gambizzazione da parte dei terroristi della Valteralasia, il primo aprile 1980. Cosa fa? Scrive una prima lettera alla redazione della Civiltà Cattolica, quattro anni dopo l'agguato e dice Chi vuole ormai che si interessi ancora, a distanza di anni, dell'angoscia, della disperazione, della dannazione dei parenti delle vittime uccise o dei feriti più gravi in attesa di un minuto di un minimo di giustizia? Salviamo pure i terroristi carcerati, ma chi salverà le anime delle vittime? Non solo lo Stato dimentica le vittime, ma anche la Chiesa ci ha dimenticato. Ma in realtà Martini che cosa fece? In quel contesto, in mezzo a quelle tensioni e possibile ambiguità, crediamo che la sua azione fu una profezia per la Chiesa. Infatti sul piano ecclesiale, Martini era fermamente preoccupato di trovare quale azione pastorale per curare una società e una Chiesa ferita. Giuebbe ricordare almeno sinteticamente il contesto ecclesiale degli anni Ottanta, che visse nell'83-84 il Giubileo straordinario della Redenzione. Poi, sempre nell'83, il Sinodo dei Vescovi sulla riconciliazione e la penitenza nella vita della Chiesa. Poi nell'85 il convegno CEI di Loreto su riconciliazione e comunità degli uomini. Tutti eventi che videro Martini come protagonista e che coinvolsero la Chiesa nella preparazione nello svolgimento e nei documenti che ne nacque. A noi sembra che in quel contesto ecclesiale si possa dire così. Martini scelse di stare accanto alle vittime, lasciandosi guidare dal loro dolore e condividendolo, correggendo a volte le scelte, imparando attraverso di loro, persino a volte scusandosi. Anzi, dovremmo dire meglio, non solo scelse di stare accanto a loro, ma possiamo dire che le vittime della violenza furono non solo le destinatarie della sua cura, bensì il soggetto di una trasformazione del Vescovo stesso. Potremmo dire con un'analogia, come un padre, anche spirituale, un padre, una madre, diventa tale, nasce solo grazie ai figli, e qui Martini è diventato un pastore grazie alle persone che accompagnava e che hanno fatto emergere in lui il calore della sua umanità. E in questo senso la vicinanza alle vittime fu un tempo particolarmente fecondo. Lo testimonia il fatto che più volte nei suoi interventi e nelle sue retrospettive ebbe a citarli. Faccio un solo esempio tra i tanti. Nel 1990, in occasione del decimo anniversario del suo ingresso, nel ricordare gli eventi caratterizzanti quel primo decennio, così diceva. Dieci anni fa c'era in prima fila il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Quante memorie suscita questo nome e quanti altri nomi. Dieci anni che hanno visto molte morti dolorose, potremmo dire eroiche. Il 12 febbraio giunse la notizia dell'uccisione di Vittorio Bachelet. Il 19 marzo, sempre dell'80, la morte di Guido Galli, in un corridoio dell'università davanti all'aula di giurisprudenza. Il 28 maggio venne ucciso Walter Tobagi. Quanta sofferenza e quante lacrime che hanno plasmato il volto di questo pastore. Insieme alla vicinanza personale cercò di coinvolgere il più possibile anche la comunità cristiana proprio nella lotta alla violenza, fin dall'inizio. Ma nel 1984, mentre si svolgevano i grandi processi ai più forti gruppi dei terroristi di sinistra, proprio a Milano, fece una processione dal fortissimo valore simbolico, cosa che aveva sperato di fare già con il gesto della riconsegna delle armi. Qui prende la croce di San Carlo ricordando quando fu lui a portarla per le vie di Milano in occasione della peste. Definisce peste l'esperienza del terrorismo e oggi comprendiamo meglio la carica delle sue parole. Anche se la nostra città ha molti doni di Dio, non per questo deve chiudere gli occhi sui suoi mali. E il primo di questi grandi mali, di queste grandi pesti del nostro tempo è la violenza in tutte le sue forme. Si va dalla violenza politica che ha prodotto le crudeli aberrazioni del terrorismo e ho ancora negli occhi il sangue degli innocenti uccisi, uccisi nei luoghi di lavoro, nelle aule universitarie o a pochi passi dall'abitazione. Si va da questa violenza aberrante e crudele alla violenza criminale che o per rapina o per vendette tracosche insanguina anche le nostre strade e le nostre case, che costituisce una delle dolenti e amare pestilenze del nostro tempo, che miete innumerevoli vittime senza voce e senza difesa. Che cosa cercava di fare il Vescovo? Mancavano poche settimane proprio alla consegna delle armi in curia sulla quale sia lui sia il cappellano Don Luigi Melesi speravano di ottenere una forte eco che conducesse altri ad una conversione, ad un pentimento degli assassini. E tuttavia dobbiamo fare i conti con il fatto che proprio il pentimento di qualcuno tra gli assassini avesse risonanze particolarmente forti a confronto della silenziosa testimonianza e faticosa dei familiari delle vittime che non riscuoteva particolare attenzione. Lo segnala in modo particolare una domanda bruciante di Gemma Capra Calabresi che disse così, ma perché? Se stavamo tanto a cuore nessuno è venuto a cercarci. Allora in questo senso si capisce ancora meglio la portata profetica di Martini. Dal punto di vista ecclesiale lui non si accontenta di una posizione mediana ma si espone a favore degli ultimi. E quale fu la sua intenzione, il senso profondo delle sue scelte? Qui siamo fortunati perché non bisogna andare ad interpretazione. La ragione delle sue scelte invece è svelata da lui stesso. Nel 1986 rilascia un'intervista al confratello padre Virgilio Fantuzzi della civiltà cattolica. Nasce in un momento di incomprensione e persino di contestazione, soprattutto per la sua esposizione verso le carceri e a favore dei terroristi, dando l'impressione di una trascuratezza delle vittime. Ebbene, in questo contesto quella scelta, le cui ragioni profonde sono state scoperte da Silvia nella sua ricerca diretta, costituisce una sorta di retrattazio che esplicita le ragioni del suo stile. Anche in questo caso, proprio prima della morte di Virgilio Fantuzzi, abbiamo appunto potuto raccogliere da lui stesso il racconto di che cosa fosse realmente accaduto. Non era il primo articolo che Fantuzzi scriveva. Sentite, aveva un debito di riconoscenza nei confronti di Martini. Dopo il gesto delle armi, molti giornalisti cercavano di entrare in contatto con lui. Tutti i giornalisti che lo contattavano, lui diceva di avere accordi per un'intervista esclusiva con civiltà cattolica. Quindi gli servivo come scusa. Ha approfittato della cosa per dire di no a tutti gli altri. E poi, quando io sono arrivato per intervistarlo, mi ha liquidato con poche risposte e mi ha mandato da Don Luigi Melesi. Dopo un po' di tempo, il cardinale stesso chiese di fare un secondo articolo, perché, da come era stato definito, lui riteneva che fosse troppo sbilanciato sul versante dei criminali. A questo punto lui chiedeva un articolo che riequilibrasse la situazione e si lasciò intervistare a lungo. Era abbastanza chiaro che voleva riequilibrare i contenuti, come emerge dall'articolo. L'intento, cioè, di questo secondo articolo è esattamente quello di seguire la richiesta di Martini. Il secondo, dunque, è un articolo su commissione, di cui mi è stato fornito il materiale da Martini stesso. Si trattava chiaramente di un compito che dovevo svolgere. Ed è proprio grazie alle sue parole, alle parole di Martini, o alla sua confessione, potremmo ormai dire, che si paesa il senso delle scelte fatte in quegli anni. Martini stesso riconosce le ragioni dell'apparente sbilanciamento verso i terroristi e le carceri, almeno sul piano pubblico. Ma solo perché la cura per le vittime, sono parole sue, era stata affidata a incontri e colloqui privati, ammantati da quel riservo che dovrebbe caratterizzare ordinariamente ogni autentico fatto di coscienza. Così, mentre si sono avute notizie degli incontri che l'arcivescovo ha avuto qualche volta con i terroristi detenuti nel carcere di San Vittore, poco o nulla si è saputo dei numerosi, incontri che egli ha avuto e continua ad avere con le vittime di atti terroristici. Se si avvicinò ai terroristi fu per cercare di comprendere come fosse possibile una deriva tanto assurda e lo smarrimento di una generazione. Ma anche e soprattutto, sono sempre sue parole, per individuare le radici della conflittualità e creare i presupposti di una pacificazione sociale. Infatti, diceva, la mia convinzione era che quando fosse avviata una minima incrinatura in una ideologia così totalitaria, allora davvero sarebbe stato l'inizio della fine di quel tragico e assurdo conflitto. Parlando del cammino di riconciliazione, indicava la necessità di una conversione del cuore, ossia un cambiamento personale da cui tutto deve partire. Ma dall'altro ne indicava il nesso inscindibile con una riconciliazione sociale e politica, poiché ne occorreva una ricaduta pubblica. La conversione, diceva, si deve vedere. Il perdono cristiano, parole di Martini, non è infatti un colpo di spugna. Dio vuole che chi ha compiuto il male se ne penta di tutto cuore, cambi vita, ripari con tutte le sue forze il male fatto, lo pianga nella misura in cui ha fatto piangere altri, offra le condizioni per una riparazione il meno inadeguata possibile. Solo in questo modo il perdono sarà rispettoso. Allo stesso tempo poi, la buona volontà dei singoli non è rimedio sufficiente per debellare il male, occorre che si impegni l'intera comunità. È interessante che commentando le parole di Gesù in croce, Martini, come anche Gemma Capra, sottolinea che lui stesso, Gesù, rimette al Padre la possibilità del perdono. E da fine Geseta dice Non per niente alcuni manoscritti antichi avevano messo nel Vangelo di Luca le parole di Gesù sulla croce Padre perdona loro. Forse chi ricopiava il testo aveva pensato questo è troppo. La forza del bene che vince il male può davvero apparire un eccesso per l'umano. Essa è la forza di Dio nel mondo. E forse è anche per questo che più tardi dirà proprio pensando a chi faceva pressione sulle vittime per domandare loro se volessero perdonare. Neppure Dio perdona così, banalizzando il male compiuto. Dio prende su di sé il male degli uomini. Nella sua grande tragicità Se lo carica sulle spalle con la croce e ne soffre a morte non banalizza né minimizza il male ma lo smascera nella sua ferocia e malvagità. E infine è significativo che il termine perdono non si trovi mai in occasione delle omelie per le vittime sulle labbra di Martini. Un silenzio eloquente. Quanto meno dovrebbe trasmettere prudenza nell'utilizzare una cifra cardine del Vangelo spesso ab usata. Cos'è il perdono? Si può, si deve perdonare in qualsiasi condizione? Come si concilia con la giustizia? Interrogativi tutt'altro che banali e che richiedono una ripresa seria da parte della riflessione teologica. L'ascolto delle vittime del terrorismo per noi si è rivelato un luogo stimolante al riguardo. Da qui dunque la provocazione anche per il ripensamento teologico del perdono cristiano a partire da ciò che Gesù stesso ha fatto sulla croce. Ciò che stupisce è la non violenza. Forse in queste sue parole si può riassumere il frutto dell'esperienza attraverso quegli anni difficili nella nostra società italiana. Martini li ha attraversati stando accanto alle persone in modo pubblico tanto quanto in modo privato in un mistero di consolazione duplice sia con la vicinanza accanto alle vittime agli orfani alle vedove sia con l'operosità attiva per rimuovere le cause del male ideologiche o materiali. E quasi a sigillo di quegli anni drammatici introducendo la nona cattedra dei non credenti su fedi e violenza Martini sintetizza così la parabola che aveva compiuto. Viene quasi da affermare al di là di ogni tradizione religiosa su una colpa primitiva che l'umanità probabilmente è nata violenta o almeno che è stata violenta fin dagli inizi che la violenza in un certo e qual modo le è connaturale e che è piuttosto la non violenza a stupire o ad andare controcorrente. Una parola cioè non di amarezza ma di stupore è un riconoscimento potremmo dire così grato a chi ancora oggi risponde al male con il bene e con la sua reazione non violenta tutte le vittime contribuiscono a interrompere la catena del male per sé e per tutti. Non è già questo il principio del perdono? Grazie a Silvia Meroni e a Don Francesco Scanziani per questo per questo cammino a due voci che hanno fatto all'interno della storia e della riflessione del del Cardinale Martini credo che moltissime delle cose che questa sera ci hanno raccontato hanno fatto riecheggiare molte delle cose su cui abbiamo già riflettuto e che ci siamo e che ci siamo detti in questi in questo periodo insomma in questi due primi incontri e credo che la cosa più preziosa dell'incontro di questa sera sia stata quella di averci messo di fronte di averci offerto una lettura trasversale quasi una lettura che attraversa tutta la tutto il magistero potremmo dire di di Martini facendoci vedere anche il tormento da cui questo magistero è nato cioè il tema il suo confronto non semplicistico col tema della violenza senza offrire frettolosamente una soluzione legata al perdono come se fosse una soluzione che in qualche modo elimina cancella dice la parola fine chiude con facilità e con possiamo dire anche con con semplicità il problema invece complesso che impone di riflettere nella nostra più profonda interiorità che è quello di che cosa ne vogliamo fare della della violenza ed è interessante tutto questo perché ancora una volta attraverso forme estreme di violenza come quelle che hanno spinto il cardinal Martini a riflettere sul tema del rapporto fra violenza e non violenza e queste forme estreme in realtà diventano la chiave per decifrare anche la nostra quotidianità ciò che in qualche modo il pregio fra virgolette di ciò che è estremo è quello di mettere alla luce di togliere ogni velo e di portarci alla radice più profonda alla radice nuda dei problemi e di farci vedere quindi fino in fondo qual è la questione sulla quale le questioni sulle quali noi siamo chiamati a riflettere per questo credo che anche le parole di Martini che abbiamo sentito che abbiamo sentito questa sera quelle parole le ultime credo siano state per tutti noi insomma abbiano stimolato una riflessione molto forte quando ci ha parlato della violenza come una pestilenza cioè come qualcosa che distrugge come fanno tutte le pestilenze distrugge il tessuto delle relazioni umane e non solo una relazione non solo una ma il tessuto intero di una relazione che è la grande preoccupazione di Martini cioè quella del mantenere in qualche modo forte lo spirito che tiene insieme una comunità pensate quante volte se vi è capitato ancora di leggere quante volte Martini ha parlato della città il tema della città ma non perché fosse il vescovo di Milano ma perché la città è il simbolo del nostro modo di vivere insieme la città i messaggi alla città i discorsi alla città le riflessioni rivolte alla città la città che cos'è la città è il fatto che è il posto nel quale dobbiamo imparare a vivere insieme e tutto ciò che in questa città colpisce qualcuno non si limita a colpire qualcuno diventa qualcosa che colpisce l'intera convivenza umana e da qui la lucida anche drammatica consapevolezza della pervasività ma anche della catena come ci diceva prima Silvia la consapevolezza della catena del male quindi credo che dobbiamo veramente essere grati di questa presentazione perché ci dice molto non solo di ciò che Martini ha vissuto ma credo ci dica molto anche su ciò che ciascuno di noi sulle riflessioni che ciascuno di noi fa o può fare di fronte al tema della violenza con il quale perennemente e in forme sempre nuove noi abbiamo a che fare dalle violenze piccole che ci toccano magari quotidianamente fino a violenze più radicali alla violenza della guerra alla violenza fra due giorni la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e ancora oggi abbiamo a che fare con questa pervasività di questa forma di violenza e quindi non è una chiave quella di Martini per interpretare unicamente la violenza politica ma è uno stimolo per interrogarci sul significato che ha per il cristiano il proprio rapporto con il male con il male con la prevaricazione e chiudo dicendo proprio ringraziando ancora insomma Silvia Meroni Don Francesco Scanziani di questo intervento perché di fatto tutto questo ci porta anche al cuore stesso del cristianesimo che parte o attraversa non parte attraversa la vicenda del crocifisso la vicenda di un dio di un dio crocifisso insomma uno dei grandi testi della teologia del novecento si intitola non a caso il dio crocifisso come un punto un punto di non ritorno è il dio crocifisso e quindi il tema della violenza potremmo dire è per il cristianesimo della violenza in tutte le sue forme anche nelle forme più piccole più quotidiane è ciò che interpella quotidianamente per il cristianesimo la vita del cristiano grazie a tutti grazie a tutti